Poi sia in amistà, accendi la televisione come usai, che bello vedi questo programma e notti ne pinterai. Questa volta abbiamo in programma parte dei soliti modi di dire una cosa interessantissima Temo con Illibarra, una cosa tra lo scherzo e la cosa seria. Insomma, viserà dirri, qualche servizio dall'esterno, una disputa con Antonello Serra, Doria Essex, stavolta Poaru e Ricco, che si pone ne uno contro l'altro. Vada a dirri, vada a dirvi, 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 insomma, di intendere poesia, vada a dirvi con poesia in amistà.